Sì, sì, dai, adesso, tutta! E' lì di farla! Oh, Giorgia! Calì, due minuti! Brava, Fiore, brava, Fiore, va bene, bravissima! Bravissima! Brava, Fiore, brava, Fiore, brava, Fiore, brava, Fiore, brava! Brava, Fiore, brava, Fiore, brava, Fiore! Brava, Fiore, 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 bra Grazie a tutti. 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 Arbitro... 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 Esce il 2... Esce il 2... Vieni Giorgia... Vieni Auri... Grazie a tutti. 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 Arbitro... 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 Buona Laga! 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 Dai, 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 continuiamo, forza! La zona, come la zona, è la zona! Andiamo, andiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!